Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficializzato lo sblocco della zona franco-urbana per aziende e titolari di reddito di lavoro autonomo residenti nei comuni colpiti dal Sisma 2016-2017. Dunque via le domande per la zona franco-urbana del Sisma, già prorogata fino al 2020, è concessa anche a chi si impegna ad aprire un'attività entro la fine del 2019. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico spiega in maniera dettagliata le modalità di accesso alla misura di aiuto riservata sia alle imprese che ai lavoratori autonomi del cratere del Sisma e per la quale è prevista una dotazione finanziaria di 141.700.000 euro, così come il segnato nella legge di bilancio. Le richieste potranno essere presentate dalle 10 del 18 giugno alle 10 del 10 luglio 2019. Possono beneficiare della nuova tranche di agevolazione imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo già beneficiari nel bienio precedente dalle esenzioni fiscali e contributive previste dalla zona franco-urbana, ma anche le imprese e i lavoratori autonomi che all'interno del perimetro hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017 o che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, fermo restando che la mancata apertura comporta la decadenza dell'aiuto. Le agevolazioni della zona franco-urbana del Sisma hanno un limite massimo fissato a 200.000 euro che diventano 100 nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi e si riducono fino a 20.000 per il comparto agricolo.